. Siamo a pulire tutte le cose, abbiamo tutto il terreno da mangiare. Facciamo il canale, abbiamo la polizia che è tutta cosa, abbiamo la loro che è tutta cosa. Tutta cosa? Non lo so. Tutta cosa? Tutta cosa, abbiamo la loro che è tutta cosa. Abbiamo la polizia che fa l'autorizzazione, non posso perdere un po' Ma... Perché a spiegare il prodotto non faccia che... No, lui, a cosa c'è, spingiamo un metro, che tu caccia di fare? C'abbiamo un terreno di supera, che tu caccia di fare faccio? Abbiamo la polizia che ha dato l'autorizzazione, abbiamo la polizia, non posso aspettare ancora tutto questo po' di una e l'autorizzazione da, e l'autorizzazione da... Tutto questo po' di miele... Si, ma lo so, ma è una cosa... La malua è ricca, la malua è ricca e l'abbiamo portata da... Lo speriamo, abbiamo la terra rossa e sopra, l'abbiamo portata al terreno. Certo, non è tutto, se... Ma puoi guardare, è una poco qua, eh? Tipo di scala. Una poco, guarda e una poco qua. Alla fine c'è, la terra c'è. Eh, vuoi dire? Sì, se abbiamo la terra, è sopra, ora facciamo una... Ci facciamo una spiegata, e mettere fuori queste certe faccate, perché... Non so, queste certe faccate, ma non posso... Non posso stare giù, ecco, se va. Vabbè, come va, ora viene Peppe, va bene? Certo, questa vecchia, la vecchia, è attaccata con un parabazzino di loro, ovvio, ecco... Tutta questa... Tutta questa lì, questa è la lì, questa è la lì, questa è la lì, questa è la... Queste, le ragazze hanno la testa. Grazie 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 Grazie